ecco me, pronto? sì? eh, c'ho la cuffia, c'ho la cuffia, lo sento sì? ah, mi aspetta il presidente, mi aspetta il presidente, va bene, vero appena posso, arrivo subito, va bene, va bene, arrivederci, saluti, grazie, grazie, ossegui alla signora, cosa vorrà del suo presidente? Stavamo vedendo qua le aspettative della squadra e che vogliamo fare, come qua, che vogliamo fare? la squadra va bene, non è che possiamo pretendere di vincere la Champions, però va bene, non siamo noni, metà classifica, non so, i vostri obiettivi non è che mi sembrano abbastanza normali, no? eh, sapi che il prossimo incontro è col Palermo, sì, lo sai, lo sai, sai che è col Palermo, sì, come lo facciamo? vincere o? sai, il Palermo, dai, cioè voglio dire, il Palermo è ultima, eh? praticamente è in zona retrocessione, noi siamo noni, dovremmo vincere, no? così dici, eh? lo spirito poettia, come buono, perché qua se non vinciamo è un casino, io te lo dico, quindi vedi tu che buono va, va bene, capitano, la ringrazio per il coraggio che mi dà e vedremo un po' il da farsi, grazie mille, grazie, grazie ancora. Il calcio mercato, e adesso quasi, e alla fine, il calcio mercato è alla fine, gli sgoccioli, e questo è quello che succederà, c'è arrivato un messaggio, c'è qualcuno che vuole un po' pesa, ma Bruno Martella, ma non so di fuori, Bruno Martella 4 milioni, il Real Sociedad vale 4 milioni due, noi facciamo una controferta di 5 milioni e 5 milioni, 5 milioni, 5 milioni e 5 milioni e 6, 5 milioni e 6, avanza l'offerta, il Real Sociedad se ce lo compra, che c'ha questa botta di ano, incredibile, vediamo, vediamo se all'ultimo riusciamo a tirar su questi 5 milioni fuori via, che arrivano così, che va bene per la seconda, per la prossima stagione, no? vediamo cosa dice, vediamo, abbiamo deciso di accettarla, boh, abbiamo venduto il Martella per 5 milioni e 6, non lo so se abbiamo fatto bene, forse anche no, non lo so, ci serve un esterno sinistro a costo zero, vediamo chi ci arriva, svincolato, c'è Marco Caicedo della Columbia, che potrebbe, 25 anni, è veloce, è veloce questo, poi questo chiede svincolato a costo zero, magari ci viene sta botta di culo, richiesta del giocatore, lui vuole 10 mila, vediamo, magari a 9 e 5 viene, il giocatore chiave prima squadra, se ci viene il Marco Caicedo, magari ci arriva sta botta di culo, ma anche forse ci arriva la proposta indecente, che se riusciamo a comprarlo nelle ultime 7 ore, accetta offerta, vieni subito, ci serve un esterno sinistro, immediatamente, chiamano il direttore, direttore, preparami una conferenza stampa, una conferenza stampa, subito, immediatamente, per noi questo nuovo acquisto, vogliamo presentare appunto ai nostri tifosi e appunto al Crotone Channel, questa nuova TV che ci ha dato la possibilità di crescere ancora come società e prima ancora come persone e adesso noi abbiamo preso appunto Caicedo a costo zero, un po' come la Juve ha fatto con Pirlo, noi l'abbiamo fatto con questo, a costo zero ci siamo portati a casa un esterno sinistro, nello stesso ruolo di Martella tra l'altro, è molto, è un giocatore molto versatile, è un giocatore veramente, vera veramente versatile, tu lo prendi, lo butti in un secchio, lo versi nel campo, lui va un po' dove capita, in base alle pendenze, ai buchi del campo, ed è normale che è diventato il beniamino dei nostri tifosi, sono sicuro che farà tanto, tanto, tanto bene. Santa Madonna dello zabaione, ti prego, fai vincere il Crotone, ti supplico, ti supplico perché ci serve, ci serve questa vittoria, è una vittoria importante, non possiamo fare meno, non possiamo, fai qualcosa, guarda giù ogni tanto, no? Eh, dai, fai la brava. Eh, va bene, che dire, allora noi aspetteremo impazienti questa partita dal vostro, dal vostro canale, dal Crotone Channel, ogni, ogni diretta, ogni partita è un busy aux. A dopo. Un saluto da Pierlu Gipardo e benvenuti a questo match con me, come sempre, Stefano Nava, a cui cedo subito la parola. Grazie Pier, non vedo l'ora che l'arbitro via il fischio d'inizio. L'allenatore ha deciso di mandare in campo fin da oggi il nuovo acquisto, l'esterro di fascia che, nelle intenzioni e nelle speranze, può completare... Sì, è vero, sì, 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 è vero, è vero, è vero, guardatelo lì, guardatelo lì, sembra Aristoteles. Spero di non fare brutta figura. Ti prego, Gesù, aiutaci tu. Ok, ragazzi, stiamo calmi, stiamo calmi, cerchiamo di fare quello che sappiamo far meglio, qualcosa. Piano, piano, ragazzi, ecco, bravi, così, giocatela bene la palla e il Palermo vi attacca, attacca l'uomo, guardalo lì, falcinelli. Guardalo lì, madonna, non ci credo, ha fatto gol lo scemo, il cretino, l'ignorante del falcinelli ha fatto gol, adesso si batte giù anche la magliorina, ma va che sei un ignorante, ma come ti permetti di romper la magliorina? Sì, regia, 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 qui sono tutti molto entusiasti per il gol del falcinelli, è stato proprio bravo, 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 bravo. Stiamo calmi, stiamo calmi, non facciamoci perdere l'euforia. Ragazzi, giocate bene la partita, giocatela bene. Stai calmo, Casedo, prendi il tuo ruolo, il tuo ruolo, bravo, guardalo, è arrivato Casedo. Guardalo. Oh, quel Casedo qui sta dando delle grandi soddisfazioni, com'è che si chiama, che non vi ricordo mai, Casedo? State facendo una partita infinita. Dov'è il Casedo? Ma... Casedo, dove sei? Maledetto tu. Non è vero, non è arbitro, non mi sembra corretto da parte... Da parte... Certo. Rispoli. Che gol ignorante. Cosa faceva il portiere? Perché ha fatto quelle cose il portiere? È un cretino. A volte fa di quelle partite, invece a volte fa di quelle cazzate incredibili. Diamanti. Sei un ignorante. Grazie al gol dell'1-1. Che nervoso. Siete degli ignoranti. Degli ignoranti come delle pecore. Adesso quando andiamo agli sfoglatori vi ammazzo tutti. Tranquilli ragazzi, possiamo ancora farcela noi, eh? Sventa qui la minaccia. È rigore, arbitro! Niente. Non ce lo dà mai il rigore. Siete dei maledetti! Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Ferrari! Ma guardalo! Ma cosa fate? Cosa? Maledetto! Guardalo! Il Cacedo! Il Cacedo ha segnato! Maledetto il debutto! Non si può voler di più. Un Monamour. Monamour Aristoteles ha sbloccato ancora una volta il risultato. Ha recuperato il pallone senza fallo. I padroni di casa si preparano al cambio. E si pierda. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Guardalo! Falcinelli! Falcinelli maledetto! Mi fa venire su una rabbia quel Falcinelli! Mendoza! Via! Fuori dai coglioni Falcinelli. E ci mettiamo due punte, altro che difendere. Via! Fuori dai marroni! Dentro il Mendoza. Ma vai via! Jonas Berdino! La notizia circolava già da giorni sui giornali. Adesso è arrivata l'ufficialità per il nuovo acquisto del Manchester United. Volevano un giocatore in quel ruolo. E sono riusciti a bruciare la concorrenza. Stoio! Oh! È una cosa! Ha fatto gol alla Panucci! Anche fa che la faccia così! Sì, regia, regia! Sono tutti euforici qua! È una cosa incredibile! La gente si salta, si tuffa giù dallo stadio! Cosa c'è? Ma dove era il fuorigioco? Ma guarda che c'era il fuorigioco! Ma c'era il difensore in porta! È finita! È finita! Meno male! Meno male che è finita! Andiamo, 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 andiamo! Andiamo, 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 andiamo! No, no, no! Come? Sì? Dalla regia? Come? Va bene? Sì? Devo cercare di fermare l'allenatore? Lo faccio subito, al più presto! E scusi, mister, mister, mister! Una domanda! Come le sembra questa partita? Come le è sembrata? Ma guarda, vi dirò, la partita è stata molto combattuta, poi abbiamo visto che il nostro amico, il nostro giocatore Caicedo, la nostra mascotte della squadra, ha voluto fare l'esploit, debutto e gol, che chiedere di più! Una partita perfetta! Grazie, grazie, grazie ancora! Saluti, saluti e baci! Salve, salve! Bene, a voi la linea, a voi la linea di Crotone Channel! Va bene, che dire? Anche questa puntata ci è chiusa, stavolta con una bella vittoria secca, un bel 3 a 1 fuori casa! Possiamo vedere che siamo a 37 punti, ottavi! 37, 3, 40, andiamo, cioè, non si sa, però potremo lottare, potremo tranquillamente lottare per l'Europa League! Ce ne sono tanti davanti a noi, però si potrebbe anche provare a fare una cosa del genere! È difficile, ma possiamo farcela, cosa ne dite voi? Domenica prossima c'è la Roma, quindi, ragazzi, 20 like e la prossima è contro la Roma! È difficilissimo, è complicata la cosa, ma se noi riusciamo a fermare la Roma del Totti e rubarci questi tre punti, si potrebbe anche cercare di arrivare veramente in Europa, chi lo sa, chi potrà mai dircelo! Va bene, ragazzi! Per ora è tutto, dal vostro amico allo 749, alla prossima! Sì, rampete!